Sono super carico di iniziare, sono contento di essere qui a Perugia, è tutto nuovo per me, quindi sono qua che mi sto ambientando, però mi sto già sentendo a casa, quindi oggi ho fatto il primo allenamento, abbiamo spinto subito ed è bello perché questo è quello che ci servirà per le prossime partite, sono molto contento. Ho ancora tanto da crescere, quindi sono venuto qua a Perugia per vincere, ma anche per crescere, con Nicola secondo me posso continuare questo percorso di crescita, lui è stato un grandissimo palleggiatore e adesso è un gran allenatore, quindi cercherò di ascoltare tutti i suoi consigli, con lui parleremo e insieme condivideremo una strategia di gioco e una strategia per farmi crescere ancora di più. Durante gli europei purtroppo non c'è stato tempo perché insomma eravamo sempre a giocare o allenarci, quindi non li ho neanche incrociati perché eravamo in due città diverse, però insomma tutti quanti mi avevamo parlato bene di Perugia, di questa nuova avventura e tutti quanti erano carichi quanto me che io iniziasse a fare questo percorso qui a Perugia. Ma una stagione bella, impegnativa come tutte le stagioni di Superlega, perché noi siamo forti, siamo molto forti, ma ci sono altre squadre che sono molto forti anche loro, quindi mi immagino un campionato difficile, duro per tutti quanti, ogni volta che si scenderà in campo ci sarà da giocare, da rimboccarsi le maniche, da farsi un mazzo così perché insomma per vincere bisogna giocare bene, quindi mi aspetto una stagione difficile ma sicuramente bella e faremo di tutto per cercare di portare a casa più parti possibile e speriamo qualche trofeo.